Se guardando quell'auto alle mie spalle vi stia venendo in mente la Citroen Oli, ebbene ci avete visto giusto perché questa è la nuova Citroen C3 che d'altronde prende i dettami stilistici direttamente dal prototipo della Oli che abbiamo potuto vedere un po' di tempo fa, ma andiamocela a vedere un pochettino. E' chiaro che il tema stilistico, tutto il design che ha pensato Citroen per questo nuovo Citroen è completamente differente rispetto al passato, lo vediamo anche da queste linee molto squadrate, si discosta completamente dalla generazione precedente. E' praticamente un'altra macchina, invariata grossomodo nelle dimensioni in termini di lunghezza perché è 4,01 metri quindi poco più di un centimetro rispetto, un po' più lunga rispetto alla precedente generazione che era la terza perché questo ricordiamolo è la quarta generazione di Citroen C3 ma cambia tanto in altezza, pensate 10 centimetri in più in altezza perché arriva a 1,57 metri. In pratica è una sorta di via di mezzo tra la Citroen C3 standard e l'aircross, potremmo pensarla come una sorta di ibrido tra queste due configurazioni. La chiave stilistica è chiaramente molto squadrata, lo si vede dal design dei fari, lo si vede dal posizionamento del nuovo logo all'interno di questa mascherina che poi richiama anche un po' il double chevron così come nella parte sotto. Spoiler, vi dico, questa è la versione con motorizzazione termica, avremo in prova anche la motorizzazione elettrica quindi riusciremo a fare una comparativa tra le due per cercare di capire quelli che sono i pro e contro di ognuno dei due modelli. Ma continuiamo a vedercela, qui partiamo con i cerchi da 17 pollici che chiaramente non sono in acciaio, sono in lega, sono diamantati, l'altra opzione sono i cerchi da 16, così come è molto bello il tetto a contrasto che come al solito diciamo rende un po' più sbarazzino il modello. Attenzione anche sui passaruota perché il richiamo al famoso double chevron di Citroën viene trovato anche qui nella parte di passaruota e al posteriore si ritrovano nuovamente queste luci di posizione, comunque in generale il gruppo ottico con gli elementi squadrati, con una parte orizzontale e una parte verticale esattamente come visto all'anteriore. Questa è una cosa estremamente interessante che tra l'altro taglia in modo netto completo dalla generazione precedente. Ve la faccio vedere anche da dietro, vedete che la parte di linea orizzontale riesce a darle anche una sensazione di larghezza maggiore seppur sia leggermente più stretta paradossalmente rispetto alla precedente generazione e molto carino anche da vedere questa sorta di beige che viene scelto in base ai propri gusti. Qui è una sorta di giallo evidenziatore che tra l'altro trovo anche molto carino con questo tono di rosso ma d'altronde è un rosso che diciamo già abbiamo visto su diverse Citroën, sulle barre longitudinali qui c'è la scritta Citroën anche abbastanza visibile. E quindi questa è una nuova interpretazione di quella che è una delle auto più vendute in assoluto in Italia in generale non solo del segmento B perché ricordiamoci che qui stiamo parlando di un'auto comunque di segmento B ma questa è in assoluto una delle auto più vendute. Qui all'anteriore dove ci sono queste feritoie, una sorta di presa d'aria per riuscire a canalizzare i flussi verso la ruota e quindi per favorire tutta la parte di aerodinamica troviamo di nuovo lo stesso beige colorato come abbiamo trovato sul montante C. Da notare che vi ho anticipato in precedenza questa è la versione termica da notare che anche il frontale non ha una calandra particolarmente ampia quindi non è eccessivamente grande questo a richiamo del fatto che non ci sono grandissime differenze con la versione elettrica. Sappiamo chiaramente che le auto elettriche tendono a non avere la parte di calandra perché non hanno bisogno di un eccessivo raffreddamento di far arrivare tantissima area al radiatore qui invece vediamo comunque che viene mantenuto più o meno lo stesso stile. I gruppi ottici anteriori come vi dicevo prima il riferimento ai posteriori anche qui sono con due elementi orizzontali uno verticale mentre invece il proiettore è a triplo elemento direttamente all'interno. A questo punto direi che è il caso di vedercela all'interno partiamola subito a vedere all'interno la cosa estremamente interessante è tutta la parte di plancia la vedete questa plancia che ha un design molto particolare che è chiamata CZEN Lounge un nome curioso ok che hanno dato alla conformazione ergonomica interna di questa Citroen C3 questa nuova Citroen C3 e la vediamo che si sviluppa alla fine su livelli. Vediamo nella parte superiore questo livello con una sorta di tasca si potrebbe anche poggiare qualcosina in realtà al netto che noi abbiamo avuto dei fogli qui specifici per il modello non consiglio comunque di lasciare qualcosa perché durante la marcia potrebbe andare a sinistra e a destra insomma potrebbe scorrere. La parte realmente interessante è la strumentazione è una sorta di strumentazione molto molto bassa in modo tale che non distoglie tantissimo lo sguardo dalla strada quindi ci si trova praticamente in proiezione direttamente verso quelle che sono le giuste informazioni da sapere durante la guida. Quindi non troppo affollato è una caratterizzazione di strumentazione che non ti porta alla confusione perché a volte il problema è di avere delle strumentazioni che cercano di darti veramente tantissime informazioni ma poi con il risultato di lasciarti perdere un pochettino tra un numero e l'altro. Al centro abbiamo un display da 10,25 pollici per l'infotainment mentre invece il volante qui è particolarmente sagomato doppia razza quindi non abbiamo la razza centrale nella parte bassa un po' plasticosi i comandi sulle due razze la sinistra e la destra però permettono di accedere anche ai sistemi di sicurezza che però noi non possiamo utilizzare perché vi dico qui si tratta di un modello di preserie. Quindi i sistemi di assistenza alla guida non sono attivi ci dobbiamo accontentare momentaneamente per adesso di una prova dell'auto in sé che è completamente operativa tranne per la parte di sistemi di assistenza alla guida questa diciamo è l'unica complicazione. La vado ad accendere giusto per farvi sentire che effettivamente si tratta della motorizzazione termica. La plancia vi dicevo si sviluppa nella parte orizzontale qui in una sorta di secondo livello adesso ve lo faccio vedere magari qui è più illuminato abbiamo la presa USB-C così come vi ricordo che la connettività con l'infotainment è completa sia con Apple CarPlay che con Android Auto. Ai lati della plancia completano poi le famose bocchette dell'ariazione verticale che sono una sorta di marchio distintivo potremmo dire per per Citroen quindi non è la prima volta che le vediamo e ci fa piacere ritrovarle anche perché questo è un link o richiamo diretto con il passato. Cosa interessante sono i sedili che per la prima volta sono i Citroen Advanced Comfort anche su questo segmento B sono molto sagomati li vediamo qui alla fine si va a trovare una schiuma particolarmente morbida e resistente per cercare di ottimizzare anche quelli che sono i trasferimenti. E' vero che si tratta di una segmento B quindi con la quale non si prospetta di fare viaggi veramente lunghi nel quotidiano ma di affrontare per lo più condizioni di strada cittadina e quant'altro però sicuramente anche a valle delle asperità questi potrebbero essere dei sedili che possono sicuramente andare a fare la differenza. Molto interessante molto carina e nella parte mediana bassa della plancia questa quest'altra sorta di mensola potremmo definirla in questo in questo modo con quello che è un ricamo una sorta di tessuto un inserto che trovo gradevole al tatto lo trovo anche abbastanza resistente non è morbido è un po' ruvido però qui per esempio già sarei più propenso appoggiarci magari per esempio lo smartphone quando stiamo guidando fermo arrestando che comunque è una superficie orizzontale aperta quindi attenzione che potrebbero essere vittime delle forze durante la guida. Togliamo quelle che sono diciamo le bottigliette d'acqua vediamo nella parte bassa il climatizzatore che ha anche la parte automatica le bocchette all'ariazione anche queste tipiche di Citroen e la parte di ricarica e induzione dello smartphone con tra l'altro anche l'NFC quindi si utilizza anche l'NFC per la comunicazione tra lo smartphone e il sistema multimediale dell'auto nella parte centrale il tunnel centrale troviamo dietro la presa a 12 volt quindi la classica presa accendisigari un piccolo vano per gli oggetti il freno a mano che è di tipo tradizionale quindi non parliamo di un freno a mano elettronico e in questo caso parliamo di un cambio manuale a 6 marce quindi vediamo la classica leva del cambio. Fatta molto bene ve la voglio far vedere tra l'altro seduto anche da dietro quindi voglio voglio salire dalla parte posteriore perché promettono qualche centimetro in più di spazio per i passeggeri che siedono dietro tra l'altro vi dico allora al netto dei poggiatesta che mi devo regolare sulla mia altezza molto comodo io fino adesso sono stato seduto sul sedile anteriore e l'ho trovato comodo il giusto non troppo morbido non troppo cedevole non troppo duro però adesso che mi siedo dietro vi dico veramente una poltrona veramente molto comodo secondo me l'imbottitura è nettamente differente rispetto ai sedili anteriori oltre al fatto che con la posizione di guida che finora ha assunto il mio collega io mi ci trovo veramente bene con le mie ginocchia guardate quanto spazio io sono seduto bene ho abbastanza spazio per le ginocchia e a tal proposito vi voglio parlare invece del bagagliaio ed è questo 310 litri di volume perché il concetto qual è? si potrebbe immaginare che abbiano sacrificato il bagagliaio a favore dello spazio per le ginocchia nella realtà dei fatti come potete vedere non è assolutamente così certo la soglia di accesso è abbastanza alta ma ricordiamoci che questa è una macchina alta da terra oltre 16 cm quindi anche questo è un qualcosa che potrebbe tranquillamente andare a favore e in ogni caso questo bagagliaio ha la soglia di accesso abbastanza alta e questo gradino che potrebbe creare magari qualche problema nell'andare a mettere bene le valigie però tutto sommato è abbastanza squadrato non ci sono delle paratie o degli angoli che possano renderlo disomogeneo quindi si possono anche andare a impacchettare molto bene le valigie da questo punto di vista veramente veramente tanta roba e sono curioso di provarla ma soprattutto sono curioso di provare non solo questa 1200 benzina 100 cavalli un 3 cilindri ma anche la versione elettrica per capire a chi potrebbe fare comodo l'una e a chi potrebbe fare comodo l'altra visto che mi ci trovo do anche un occhio al sistema infotainment andiamo un po' nelle impostazioni generale display è un sistema infotainment che viene gestito in modo piuttosto tradizionale con delle icone poi tra l'altro che permettono anche poi di vedere tutto quello che è necessario andiamo a vedere tra il navigatore abbiamo sentito anche un po' di sinterizzazione audio delle informazioni che vengono gestite dal navigatore queste sono tutte le varie lingue possibili andiamo nella home cerchiamo di capire un po' anche come è fatta il log dei controlli vedete quello che vi dicevo prima apple carplay e android auto sono entrambi disponibili così come tutta la parte di mirroring dello smartphone questo direttamente wireless che è una cosa da non sottovalutare diciamo è un sistema molto semplice da utilizzare che non mette in difficoltà e questa è una cosa importante perché anche ad oggi i sistemi infotainment sono sempre più complessi con dei layout e dei temi sempre più complessi che a volte possono anche un po' spaventare in questo caso in realtà il display prende abbastanza bene il tocco senza alcun problema è molto veloce nell'andare a eseguire le operazioni quindi io direi che per un utilizzo quotidiano questo software fa veramente bene il suo lavoro la cosa bella di questa C3 è che mi sono seduto al posto di guida e si può regolare il volante sia in altezza che in profondità che questa cosa tra l'altro già di per sé non è banale non è scontata ma dopo i primi metri ti ci metti lì e sembra di guidarla da un anno ok è una macchina che ti dà subito confidenza ti riesce a dare subito quella sensibilità giusta per essere a tuo agio questa non è una cosa banale non è una cosa da sottovalutare soprattutto considerando che di solito questa è una macchina che si approccia a una clientela molto ampia che possa essere anche i neopatentati per dirvene una o comunque ragazzi che non hanno tantissima esperienza in termini di guida quindi alla fine ci troviamo in una situazione tale che una macchina che ti permette di approcciarti subito alla guida in un modo semplice in un modo corretto ti dà quel qualcosa in più indubbiamente come vi dicevo sto provando la versione con il motore benzina 1200 3 cilindri non con la cinghia e bagno d'olio perché è stata sostituita questo potrebbe essere probabilmente il terrore di tantissime persone ma vi dico è stata sostituita hanno trovato rimedio a questa cosa potenza di 100 cavalli e 205 N per metro di coppia tra l'altro 100 cavalli che è la potenza diciamo di ingresso in gamma ok mentre prima era una potenza attorno agli 80 cavalli quindi nella realtà dei fatti adesso si parte direttamente con il 100 cavalli che non è affatto male alla fine quando ti metti alla guida di questa C3 il motore riesce a darti un buono spunto anche perché 100 cavalli se ci pensate non sono pochi considerando la mole e la massa di questa macchina quindi riescono a darti un buono spunto ecco adiuvato da un cambio manuale a 6 marce ecco secondo me i rapporti inferiori quindi prima seconda terza fino sì più o meno alla terza la quarta un po' di meno sono abbastanza corti quindi ti permettono anche di avere un buono spunto qualora tu vada a schiacciare completamente il gas riescono a darti anche una buona spinta chiaramente mano a mano che sali soprattutto addirittura ad arrivare in sesta che è una marcia ovviamente di riposo si comincia ad avere dei rapporti un po' più lunghi e di conseguenza anche lo scatto viene un po' meno viene a diminuire per ovvi motivi meccanici cambio poi tra l'altro che ha una leva dall'escursione abbastanza ampia quindi i passaggi da una marcia all'altra sono piuttosto lunghi d'altronde non ci si aspetta un cambio che diventi una sorta di lama perché non è una macchina sportiva ricordiamoci sempre che dobbiamo contestualizzare le macchine per l'utilizzo per il quale sono pensate questa cosa è importantissima soprattutto quando si va a definire anche un giudizio per una macchina e qui il fatto di avere un cambio del genere è un cambio confortevole perché il comfort passa anche da questi dettagli un cambio che ti permette comunque di dolcemente appoggiare la marcia successiva o magari scalare nella marcia precedente che siano marce diretta o indirette quindi dalla prima alla seconda o dalla seconda alla terza e via discorrendo questo è un cambio che ti aiuta nella vita quotidiana e secondo me trova poi la coerenza con quello che è il concetto di quest'auto a 360 gradi una cosa che ho sentito veramente simpatica è il volante allora la corona del volante è piccola ho detto che è sagomata sopra sotto è un po' appiattita sembra quasi un esagono e è molto agile tra le mani nel senso che una corona così piccola ti permette di direzionare immediatamente l'auto tanto è vero che vicino allo zero quindi vicino al punto centrale del volante non c'è nemmeno tantissimo angolo morto è una cosa strana da trovare su una utilitaria su un'auto del genere perché di solito sono in base alla demoltiplicazione in base alla finezza diciamo del sistema sterzante hanno un po' di gioco le auto invece questa C3 di nuova generazione non ce l'ha motivo per il quale riesce ad essere anche agile quando gli si va a impartire un comando con lo sterzo quindi si arriva lì tranquillamente si riesce a gestire anche un cambio di direzione piuttosto veloce perché l'auto è reattiva poi a proposito di volante, di rapporto di sterzo di demoltiplicazione e così via le manovre non sono assolutamente un problema e questo è un goal per una macchina utilitaria per una macchina che vive comunque gran parte del suo tempo in città perché avere un buon raggio di sterzata ti permette non solo magari di fare delle inversioni in modo piuttosto agevole e agile senza creare pericolo, entralcio e così via ma anche di andare a parcheggiare senza troppe manovre quindi una volta individuato il parcheggio non sei lì a dover fare 200 manovre per cercare di entrare centimetro, centimetro o no se te la riesci a gestire bene il raggio di sterzata ampio come quello di questa C3 riesce veramente a non crearti problemi quindi è un ulteriore vantaggio nella guida cittadina e nel comfort soprattutto della guida cittadina per la prima volta poi ci troviamo anche in presenza delle sospensioni Citroen Advanced Comfort su una C3 perché prima non c'erano adesso hanno deciso di adottarle si tratta di fatto di delle sospensioni che hanno i fine corsi idraulici questo permette di smorzare meglio soprattutto in presenza di delle sconnessioni un po' più ampie quindi anche la gestione della compressione e dell'estensione delle sospensioni viene tarata in modo differente adesso in questo preciso istante sono su una strada che è perfettamente liscia quindi anche tutta la parte di vibrazioni passive che arrivano rotolamento e così via grosso modo non si percepiscono tantissimo ma ho provato anche una strada un po' più sconnessa un po' più ruvida un po' meno liscia da questo punto di vista e ho visto che il setup sospensivo lavora in modo abbastanza confortevole d'altronde Citroen da anni 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 è sempre stata famosa per riuscire a garantire un comfort molto elevato delle proprie auto è una sorta di modus operandi di fil rouge che collega chiaramente le auto di Citroen e con questa C3 praticamente succede lo stesso quindi si riesce non realmente a ricreare l'effetto tappeto volante perché essendo una macchina più piccola con un passo un po' più corto non è perfettamente a suo agio sulle sconnessioni un po' più grosse ma perché semplicemente le stimolazioni che arrivano per esempio su una delle ruote si ripercuotono un po' per tutta l'auto quindi è una questione puramente meccanica chiaramente più l'auto ha un po' a so lungo meno si avvertono questi fattori però riesce ad assorbire tranquillamente un po' tutto ciò che c'è che passa anzi sotto alle ruote in termini di consumi vi dico io adesso sono a quota 6 litri su 100 chilometri però è sempre un punto interrogativo si riesce sicuramente a fare di meno un po' perché la macchina è nuova quindi il motore ancora non ha stabilizzato il proprio consumo un po' perché nel corso del test drive ci mettiamo a fare delle prove quindi il consumo non è esattamente basso quanto potrebbe è sempre un dato particolare poi vi ricordo che questo si tratta di un modello di pre serie seppur funzioni perfettamente tutto dalla A alla Z come dovrebbe l'unica limitazione che abbiamo avuto è sui sistemi ADAS che quindi non posso provare in questo caso l'auto ha dei sistemi ADAS che permettono tranquillamente di assolvere alcune funzioni come il cruise control e così via però non li posso provare in questo contesto perché si tratta di un modello di preproduzione quindi questo genere di sistemi sono stati disabilitati quindi rimandiamo magari a una futura prova diciamo anche la comprensione del settaggio di come lavorano i sistemi ADAS su questa C3 volendo immaginare un cliente tipo diciamo per quest'auto cosa che poi tra l'altro farò anche dopo quando salterò sull'elettrica e questa è un'auto che abbraccia veramente una grandissima varietà di persone ma veramente tantissime che possano essere i neopatentati che possano essere dei padri di famiglia che possano essere delle persone che hanno bisogno di una seconda auto esclusivamente per la città perché la versione benzina chiaramente ti permette anche di spostarti un po' più lontano rispetto al centro urbano magari mentre la versione elettrica mantiene una connotazione marcatamente più urbana questa di fatto magari è un'auto che ti permette di lasciare il contesto urbano per goderti un weekend fuori una gita fuori porta qualcosa del genere di conseguenza abbraccia veramente una grande varietà di possibili clienti che riescono poi a utilizzarla a 360 gradi ma d'altronde questo è stato anche il gran successo che ha permesso alla C3 di essere conosciuta e apprezzata in tutto questo tempo ma a questo punto io direi che è arrivato il caso di saltare sull'elettrica quindi adesso provo anche l'elettrica adesso prima che venga veramente giù tutto il diluvio possibile passo all'elettrica le differenze non sono tantissime sostanzialmente sono tutte all'interno ed ecco che adesso comincia a piovere a bomba eccoci qui le differenze in sostanza sono solo nella parte di tunnel centrale vedete qui non c'è più la cloche del cambio ma c'è questa unghietta perché chiaramente il motore elettrico prevede esclusivamente una selezione di R&D in una sorta di monomarcia tutto resta perfettamente uguale l'andiamo ad accendere abbiamo sia la strumentazione nella parte c'è la qualunque abbassiamo un attimo l'audio quindi sia il display 10,25 pollici sia la strumentazione tutto viene confermato perfettamente uguale tranne la motorizzazione che adesso sono curioso di provare direttamente su strada in attesa che il passaggio a livello si faccia verde mi faccia passare già vi comincio a dire chiaramente guidare la versione elettrica di questa Citroen C3 è completamente differente ma proprio un altro punto di vista un altro guidare fermo restando che già la motorizzazione è differente perché in questo caso noi parliamo di un'auto da 83 kilowatt di potenza quindi circa 113 cavalli che però sono elettrici di conseguenza anche l'erogazione della potenza è nettamente differente rispetto alla versione benzina vero che la velocità massima è limitata a 135 km orari e qui comincia ad arrivare la prima differenza tra la versione petrol quindi la versione benzina e la versione elettrica già si vede che questa versione elettrica è molto molto più incline alla città quindi all'ideologia di io riesco a fare casa lavoro il mio tratto casa lavoro ricordiamoci che sotto al pianale di questa C3 c'è una batteria da 44 kilowattora è una batteria con chimica litio ferro fosfato che garantisce un'autonomia massima di 320 km ovviamente dipendente anche da che strade andate a percorrere considerate che io fino adesso vedo un consumo che si aggira ai 12,4 kilowattora su 100 km però non lo prendete assolutamente come un dato definitivo perché durante i test drive è sempre un qualcosa che lascia il tempo che trova il dato sul consumo perché la macchina viene sempre un po' stressata bisogna capire un po' come va e così via quindi il lato consumo è da prendere un attimo con le pinze questa è una macchina quindi idonea anche in termini di percorrenza a farci tranquillamente vita cittadina perché vi permette anche di non doverla caricare quotidianamente 320 km che poi tra l'altro in città potrebbero anche paradossalmente essere qualcuno in più visto che ci si trova spesso in delle condizioni di stop and go e quindi a recuperare tantissima energia e io vi dico sfruttate tanto il recupero dell'energia in frenata perché ci si trova a ottimizzare tantissimo tutta la fase di dinamica veicolo quindi tutta la fase anche di efficienza dell'elettronica, del pacco batterie, del motore e così via e ovviamente se avete la possibilità di ricaricarla in modo comodo avete fatto bingo, avete fatto centro se avete un box, una colonnina vicino la possibilità di poterla caricare con una wallbox a casa veramente sareste il cliente tipo ideale per quest'auto che poi tra l'altro carica sia in corrente continua fino a 100 kW sia in corrente alternata o con le wallbox da 7.4 kW oppure con la trifase che poi c'è il cavo direttamente in dotazione con le colonnine stradali fino a 11 kW di potenza che non è male considerando che alla fine per esempio in corrente continua si tratta di 25 minuti 26 minuti per passare dal 10 all'80% quindi recuperate comunque tanta percorrenza che potete farci una settimana se ci fate casa lavoro, lavoro casa ci fate veramente una settimana anche perché le medie di percorrenza europee del tragitto casa lavoro e rientro sono sempre tra i 30 e 40 km quindi alla fine se vi fate due conti non è neanche complessa da utilizzare non c'è bisogno neanche di tantissima pianificazione quindi questa non è male assolutamente come cosa lo scatto proprio la verve di quest'auto è completamente differente rispetto alla versione benzina chiaro che il peso è leggermente superiore ma in ogni caso non si sente anche in dinamica, anche in rollio e comunque torniamo al discorso che ho fatto anche con la versione benzina non è una macchina che è fatta per la prestazione quindi il fatto di avere un peso leggermente superiore non ci crea assolutamente un problema anzi è proprio una tipologia d'auto sulla quale un aggravio del genere passa praticamente inosservato estremamente importante ovviamente in chiusura video parlare di prezzi perché la versione benzina parte da 14.990 euro nell'allestimento Ju fino ad arrivare ai 19.500 euro per l'allestimento Max mentre invece per la versione elettrica e questa seconda che sto provando si parte dai 23.900 euro sempre per l'allestimento Ju e si arriva ai 28.400 euro dell'allestimento Max anche in questo caso quindi stessi tagli di allestimento per entrambe le versioni con grosso modo dotazioni molto simili tra di loro ovviamente questi ultimi prezzi che possono beneficiare degli incentivi e qui arriviamo veramente a dei prezzi molto interessanti d'altronde l'AC3 di nuova generazione ha il gran vantaggio di voler portare l'elettrico veramente a grandi numeri è una macchina che già di per sé fa numeri molto elevati in termini di volumi di vendita questo è un prezzo d'attacco estremamente interessante per un'auto completamente elettrica di questo segmento quindi staremo a vedere assolutamente se ne vale la pena e se soprattutto sarà una strategia di mercato che possa portare ad un buon riscontro nel breve e nel medio termine detto questo fateci sapere cosa ne pensate del video e noi vi lasciamo e vi diamo appuntamento alla prossima